Ciao ragazzi e ragazze, questo video contro i canoni dei video migliori perché ho calcolato male l'orario. Non posso oggi non parlare della questione Dazon sotto alcuni aspetti prettamente di cura del cliente e ragionamento di mercato. Allora innanzitutto quando si ha una piattaforma e si offre un servizio non è che possiamo cambiare il servizio dall'oggi al domani senza una vera giustificazione o senza tenere in considerazione i bisogni degli utenti. Tra l'altro questo oltre a contravvenire a una regola abbastanza basica della convivenza tra utenti e provider di servizi parla anche di un'altra questione. Qualcuno faceva una battuta su Twitter e diceva se la pirateria uccide il calcio probabilmente il calcio si vuole suicidare perché quale piattaforma non permette di condividere il proprio abbonamento quale piattaforma non premia in qualche modo una forma di socialità semplicemente per un ritorno meramente economico anzi un ritorno finanziario perché poi il ritorno economico in realtà ne diminuisce. Secondo me mossa assolutamente poco credibile mossa assolutamente vissuta malissimo dalla gran parte degli utenti tra l'altro per un servizio famoso per funzionare male per i disservizi. Io non sono utente da Zon, leggo le opinioni, leggo cosa si scrive, cosa si dice soprattutto vorrei analizzare la questione da un punto di vista meramente aziendale. Mi chiedo ma che strategia è quella di non dare un servizio come dovrebbe essere dato e in secondis addirittura dire da oggi dovrei pagare di più perché se condividevi l'account bisognerà che qualcun altro lo paghi per se stesso. Non lo so, non lo fa Netflix, non lo fa Prime, non lo fa quasi nessuno stiamo tornando indietro, questa non mi pare proprio innovazione basterebbe un po' di buonsenso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Stop whining.